No, Marta, non devi andare in bot, cioè, non devi andare in giungla, però. Inter è sinonimo. E dove deve andare? È in mid. Va bene. Visto che me lo di... Inter è sinonimo di... Come se fosse dispiaciuto il fatto che dovesse andare in mid. Ci sono. Ci sei? Perché non potrebbe essere che sono dispiaciuto. Oh. Finalmente un gameplay di qualità. Prendo una patatina. Me la mangio. Affilatela nel culo. Io la stremmo. Mi sono un brole, va. Sì, però fa scegliere i ruoli, Patrick. La stava prendendo Zenko. Eccolo. Ma mi sa che non è ancora online perché sta facendo gli aggiornamenti. Ho 400 rp. Io ne ho 440 appatti. Facciamo una cosa, Martina, stiamo lì. Oh, sì. Oh, sì. Oh, va bene. Non vedevo dove è giocare a questo gioco. Oh, c'è me la cosa stai ricordo furioso, ma non ce la faccio. Ma qua non ci credo... Oh, va che bello. E vabbè. Mi stai dicendo che una truppa, non devo... Vai, ti soldi. Niente, mani siamo... No, c'è il jeans dell'Odisseur. E come c'è addone, come secondo ruolo, devo mettere qualsiasi. Mi fa crashare bene il disco. Ok, io ho un vestito, il pacchetto. Oh, vai. Posso prendere un'altra sfera o 200 oggettoni. Hai 250 o la sfera? No, non prendo un'altra sfera. Dov'opendere croma di Samira. Quale croma di Samira? Sì. Vai che senti nella, che cù. Guarda, vorrei prendere Discord per rimettere Better Twitch. Guardate che tipo io. Ah, Trots, che cù. Dai, croma di Samira, fammi vedere. Nei gettoni. Un gettono. Non la vedo la croma di Samira. Guarda bene, apri gli occhi. A me non mi piace sta prova. Mi piace. Ash, Darius. E' vicino a Sian e Mordekaiser. Sì, non so. Ah, Samira, ma sai che pensavo a Senna quando hai detto Samira? Per questo non collegavo la faccia. Eh, vabbè, sono entrambi nel sud, ma... Nel sud, eh, vabbè. No, non mi piace. A me è tutto quello che Samira piace. Tutto quello che Samira piace. E' più carino. Compa, quando vuoi. Ok. Direi Karim che è carino. E' bella Karim, non mi dispiace. Chi è che ha... A me Katarina piace. Senti stato senato Sam? E' proprio andato. E' detto che doveva riavviare Discord. Non l'ho sentito. Nemmeno io. Nessuno ascolta Sam. No, io ho sentito comunque... Se si è impegnato a dirlo, no. Come tu prima. Oh, l'ho sentito io. Perché non stavo tenendo il gioco. Io no. Ma io non stavo tenendo il gioco. L'ho sentito, no. Quello importante non l'ha sentito. Perché è un coglione. Non è gioco vento, che ne pensi? Io, Zenzi, che lo sai come supporto? Metti la cosa supporto in alto. Dopo gli è bannato. E' banna a Brand. No, banna a Morgana. Lascialo vedere. A Morgana. Io ti banno a Brand. Cos'è? Cos'è che si banna? Morgana. Che farei nessuno. Vabbè. Va bene. Ti trovi una Morgana contro i bestemmi. E' colpa da. E' forte. Poi gli insensi. Banno a Diana. Ma no, dovevo giocare... Vabbè. Ah, per cui si è a Pantano, quindi... Quindi vado su sicura. A DG in quattro colpo. Esatto. Visto? Anche lui. Anche l'altro support non chad. E' zack bannato zack giungla. Posso tornare con zack giungla, scusami. E' bannato un tankone. E' quindi qualche assassin. Ma voli è top. Voli è top. Voli è top. No, Irelia. No, è diventato Irelia. No, voli. No, Irelia. Ti funghi di Irelia di te, lo sai? Eh, lo sai. Oh no, Jungle Difference. Oh no. Un sogno che sia vera. Un sogno che sia vera. Ah, mamma mia, da quando è che non vedevate una Irelia? Eh, l'ultima volta l'ho già parito. Da quando sono nato? Da Iari. Bello popò da Efrania. Non vedevo Irelia da Iari. Da Ieri. Boh. Ti giuro. Adè è proprio bella la linea. Cioè, cosa fai da dire? È bella la linea, vado, me la farei. Perfetto. Beh, non è, è mezz'umana. Anche tu sei mezzadonna, però. Come è mezzadonna, scusami. Omega. Omega. Portateci a notte ancora più finita. Quanto costa portateci a notte? Perchè, 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 perchè. Perchè, 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 perchè. Eh, ma Patrick non è il mio gameplay. Ragazzi, ma Blitz, io non ce l'ho aperto. Ti raccolto scuro. Raccolto scuro. Aspetta. Eh? Marta, aspetta a scegliere, non fare un cazzo. Cosa devo scegliere? No, tu nulla. Ah, ma anche tu devi fattire con insensi. No, io ce l'ho già fatto. Con Blitz? No. Allora, mettiti come rune precisione. Ce l'ho già fatto, te l'ho detto. Ah, hai fatto le rune di Pantheon? No, dai, entra veloce, Blitz di merda. Potrei far tirare il rune da solo. No, no, fatto, 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 vai, vai, vai. Non ti preoccuparti, ho calcolato il tempo, ce la facevo. Dove è uscito questa rune? Ma è quella... Ma è quella... Ma è quella scritta bellissima di via. Sì, è una delle prime screen che ho droppato. Per questo ho comprato Lilia. Perché avevo la skin per Lilia. Io ho trovato l'altra di Lilia. Vabbè, quella anche mi piace un botto. Questa però è carinissima. Kawaii. E invece sta morendo lei. Yeah. Finalmente. Basta. Amadon. Le mail che arrivano mi dà un fastidio. Ma siete sempre così eccitati quando giocate a LOL? Corella è sempre così giudato, sempre. Oh, ma... Lo so, sempre... Come se mi saresti fatto la cocaina. Cocainum. Cocainum. Don't kill me, Syras. Non c'è nessun Syras da noi. Che bello, ho trovato a Mumu contro. Fa male. Fa molto male. Ma fa... Tanto male. No, se chiamiamo... L'associatore di Granchi. Ma dove l'hai detto? Ah, ok. Da sopra l'Iros. Ma sono due adcarrie? In teoria dovrei spaccarlo. Oh, Dio. Da quel che dicono loro. Mo' vedià. Ci faranno un po' di male. Perché? C'è sempre. Oh, che po' è buono. Bella Pantheon. Prendi Varus Pantheon. Non prendere Senna. È inutile prendere Senna. Oh, coniglio. Io uccido tutti. Eh, va bene. Quando ti metti là, vuoi qualche... Bella Senna. Vediamo che Senna... Maestria bloccata. Non mi fa vedere il livello, ma sembra un livello abbastanza... Ma non si fanno più vedere i livelli. Eh, già. Cos'è Maestria bloccato? Eh, non ha la maestria. Dico il personaggio. E che qui su Patrick c'è la maestria 5 con... Con quel personaggio. Che fallito. Eh, già, un gioco poco. Beh, la maestria 5 con Mumu. Dai. Chi è che c'è il computer patata? È Marta, di solito. Esatto. Però noi non lo dicevo mai. Così Marta non si offende. Non lo dite mai, proprio. Eh, già. È che ti sente offesa. Perché Marta ha metà PC già assemblato. Magari questo PC. Ma che mi è pre-assemblato. Magari, veramente. No. Eù. Spalla. Spa. Spa. Ecco. Gli mancano pochi pezzi al matto. No, col cazzo che... Mi dispiace, ma start dal Red Buff. Il Lizzie mi consiglia. Eh, start dal Blue Buff. Ma col cazzo. Ci muoio in giungla se no sort dal Red Buff. Guardate la mia Akalir. Anche tu hai la cosa al Cobarero, vero? Sì. Ho un po' di pane. Quanto siamo gay? Tu sfondi pane? No. Eh, ma... Io lo sono. Io lo sono. Pane. Eh, vabbè. Ah, torno in basso io. Tu dissocio, tornando in basso. No, non ci sono. Guarda che pellina, non do ritorno in basso. C'è una rama, l'ho vista. Eh, sì, la lana scappa. E poi si rossoma in rospone. Quando c'è nessuno... Qua non c'è nessuno. Va bene, balla. Balla anche io. A ballare. Vuoi mettere la visione qua di Pane. No, io sono un uccellino, mangiatelo. Eh? Metti la visione qua, ballando, cliccando. Quattro. C'è spoglio dove ero io. Però se non pusceranno anche lì, ci tornerà utile. Ce la fa? L'ha messo? Lo sono. Ah, i gabbo. Eccoli. Ah, scusami. Ah, le tante. Ma io stavo sfondando il pane, ma... Ti pare il caso? Il pane è importantissimo. No, le ho fatto prima. Non puoi scherzare con me. Eh? Ma le ho fottuto mezza vita, le ho fottuto. Ma no. Era tutta una tarda. Fa un culo. Vai via. Ma io non so. Ma se no, dov'è finita? Eh, lì, ferma. Pop. Un'anima. Non è tua. Chi lo dice? Eh, di Senna. Lo dice Senna. Ho iniziato con quello che blocca, giusto? Ovviamente. Non riesco a prenderlo. Ok, non riesco a prenderlo. Ora c'è anche la Q. Ora posso dargli fastidio. Ma tu già dall'1 gli vuoi dare fastidio? Beh, no. Bello, mi è piaciuto. Mi fa bagnare i zensi. Eh, i zensi fa sempre il bagnare. È un'eccitante naturale. Quality gameplay. Luxuri, anzi. Per la lancia in... Luxuri, anzi. Appena arrivo col 3, io do fastidio. No, il carretto ti sei fottuto. Ma di pallino, è nato adesso. No, ce l'avevo già. Non l'avevo visto. Va bene, nel secondo giro tornerà tutto. Eh, c'è una vera differenza. C'è una differenza. Vabbè, io non approfitto per gli pezzi, torno. Tu se resti abbastanza vicino a me, non continui a prendere esperienze. Senna... Io gli lancio grande lancia, gli lancio. Io anche picchiarli, non ti preoccupare. Finché non c'è il tuo AD Carry, puoi anche picchiarli. Io gli lancio grande lancia. Nera lancia. Chiudi gli occhi, così ti saluto. Senna è praticamente morta. Praticamente noi abbiamo già fatto kill. Mettete bisogno per il drago. Miggia, Mumu! Dammi una mano per Mumu! Oh, sta arrivando. Ma ce la fai da solo, Gabbo. Sì, lo so, ma... Flesha è quello che volevo evitare, che non scappasse. Arriva in bot. Vieni in bot. Gabbo, vieni in bot. Arrivo. Vieni insieme. Vieni in bot, Gabbo. Ancora tot. Vai, buttati. Buttati, Pantel. Buttati, buttati su qualcuno. Ok, un flash. Oh, cazzo, la mid. E io l'ho pingato. Ho detto... No, se l'è fatta. Forse si fa anche Irelia. Esercito di... Esercito di... Si è fatto di... Ehi, carretto, tieni. Tuo. Io sono perso un farm perché Mumu mi ha levato... Il pa... PINCHIA Mumu! Oh! Voleva... Voleva fottere. Vabbè, Mumu è proprio... Stupidino. Non si può dire. Clip! Marta, se vuoi, passo. Madonna, io... Yasuo. Ma è un passare. Eh, non Yasuo main, ma questo sa usare Yasuo. È passato a Mumu. Sto arrivando, Marta. Vai fare una cosa. Forca puttana. Marta, dovevi resistere. Eh, resistere. Magine di... Cioè, ma... Tutto e me mi sono più forte. Vai, con Panda non è facile fare il supporto. Ma se fottuta... Sono su le anime. Rista se l'è fottuta. Che palle il fatto che sono sotto dove... Eh, io non vi posso... Eh, io non vi posso bruciare. Uh! C'è presa la vendetta vera, Marta. Direi... Fa schifo, posto in radio. Le devo tornare in base, perché sono in fin di vita. No, ma direi di bruciare. Direi decisamente di bruciare. Gli zoccoli mi dicono di... Purtroppo... Ganko molto... No, ma... Io l'ho spugnato addosso. Scusa, scusa. Io al 6 ci vediamo, eh. Per il momento faccio pochi danni e non sono molto utile. Eh! Amumu, sto arrivando. Molimi. Ti ho fregato. Mi piace parlare con te, Sonia. Tancuno. Tancuno intrati Amumu. Questi sono schiaffi. Grande lancia. Amumu è qui? Sono tutti i mid, vogliono farsi il drago. Sono arrivato anche i nostri, tanto, Gabbo. Vogliono farsi il drago. Sto arrivando l'idea da questa parte. Sei riuscito a bloccarlo, no? Denzi, bravo, vai a cire sotto. Ahia! Per questo tu morirai. Bloccato. Vai, Denzi. È bello. Andiamo per il drago adesso. Io sono il figlio di mano, ma posso venire. Ok. Ok. Oh, mi serve quello. Eh, bloccalo. Bloccalo così gli togli lo scudo. Bravissimo. Quello è mio. Vai, tranquillo. Spogliamo la visione. E nessuno me l'ha mai detto. Vai, facciamo veloce. Eh, Yasuo, che paura. Oh, arriva Yasuo. Lo prendo, io lo prendo. È il nostro. Ah, è il nostro. Vai, smaita. Ah, voglia. Non arrivavano nemmai. È arrivato da qui. Puoi andare a casa? Sì, torniamo in bambini. Torniamo in bambini. A braccetto. Cosa compro? Stivali mobilità? Sì, dai. Poi gli eclissi. Ci corriamo. Io ci provo. Se vuoi fare lo stavio, tu devi compri il collezionista. Il? Il collezionista. Sì. Ah, ma tu hai super stivali della mobilità, quelli più diversi. Eh, che cazzo, Mumu c'è fatto l'Erald. Ci ho provato a fregarlo. Eh, lo so, ma io ero qui a farmi il drago. No, è il fusilario matto, a un certo caso se ne va la voce. È tipo, a sorario. Veramente. No, tutti i problemi hanno avuto. Sto sparando adesso. Un bel sei. Che posso dare fastidio a Mumu così. Ragazzi, posso venire a gancare, eh? C'ho il sei. Io c'ho il sei. Dovevi farlo prima. Allora, attenzione alla Mumu. Perché era in mid, poi è scomparso. Anzi, vorrei che mi si fa... Sto andando in top, ragazzi. Nulla. Visto che siete pushati. A meno farm. La senna, la odio. Appresore 7. Appresore 7, io regno. Ora, veramente. Leak. Hola, Uppi. Questo mi fa malissimo. Questo mi fa malissimo. Tranquilo, ti copro io. Mi ha allenzati? La coperta. Eh, il tuo coperto. È sopravvissuto. È sopravvissuto? Sì. Per poco. Eh, allora. Eh, devo andare in mid. Io. E lo faccio? Ci hanno sbocato dosso due ulti. Perché se quello rilascia l'era, dove siamo fottuti. Hanno già le ulti. Anche noi. Anche noi. No, io no. Eh, perché sei stato venerino. Beh, no, non l'hai spoccata allora. Perché a livello 6 si sblocca la ulti. Vabbè, tanto quella di Pantone non è inutile. Micchia, inutile. Beh, per viaggiare, solo per viaggiare non bravo. No, per posizionarti. Per posizionarti dietro di loro. Inchia, come è inutile. Nella scia fai anche danno. Sì. È ricaricata. Ora c'è la R. Guarda, io... Ah, Mumu, da te possibilmente, Marta, perché è scomparsa dalla mid. Ok, non bene. Ma come è possibile che non sta venendo una torre? Maledetta. Non hai poi visione lì, io non so come aiutarti. Eh, me l'hai appena tolta. Ah, ok. Per me è di R.E.L.I.K. Potrà essere gulona quanto vuole. Sì. No! Eh, porro, cos'è. Schifo. Arrivo, te lo difendo. Dai, push up subito. Non devi fare il chiamo. Dov'è? Non è più la mia, ma... Sei fatto tutto a piedi. Ti è cagato sotto. Abbracci di gruppo, cos'è? Dai, facciamci la torre. Così tanto per spreccio. Cazzo, così mi dai anche la possibilità di farmi... Oh, l'ultimo mignot... Oh, no, te l'hai di mignot. Ah, scusami, è vero. Ero troppo in mood di... Dobbiamo farci la torre, dobbiamo farci la torre, dobbiamo farci la torre. Dobbiamo farci la torre. Ti lascio, eh. Ok, vado a fare il tempo. Mi amore, porca troi. Oh, se non c'è in mana. Cavoli, eh. Ho finito in mana. Minchia, dove l'hanno rilasciato, ragazzi? Si torna? Vado per mid. Tu puoi tornare, difendo io la torre. Eh, ragazzi, vado per mid io. Quindi non ci sono. Madonna, quanto l'ha rilasciato in là. Gli stava scadendo. E' bello che si riesce a farsi la tacca. Riesce a buttarsi. Guarda, io purtroppo non ho mano. Sennò tu da lontano ti buttavi dietro di loro e facciamo il super... Eh, se vuoi entro io da dietro. Fammi fare la giungla e entro io. Sento così tante cose. C'ho anche il bruciare. Ora mi temono. Perché brucio. Ci sono. Ma cazzo. Eh, non so dove sono da, lo sai. Eh, Drago, 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 Drago. Si sono fatti i blu. Drago. Sì, infatti. Non lo so, non lo so, ma non lo so. Uno in meno. Stiamo in un fermo. Via, via. Butta la palla, Livia. Eh, che cazzo, non ce l'ho. Non ce l'ho, ne ricarica. No. Niente. Faccio la sua giungla. È il rosso? C'è il rosso, aiutatemi a farlo. Non c'è più. Guarda che butta a giocata, che mi sono fatta. Allora, io vado a fare la sua giungla. Ma vi sono presi il Drago? Sì, sì. Lo so, lo distratto io. Perché hanno rilanciato l'herald appunto per farsi il Drago. Eh, vado. Niente. Ok, io posso prendere il super pezzo che li distrugge. Grazie. Devo mettere per forza quelli di Mercurio, no? Mumu blocca, no? Mumu blocca, sì. Vado a farmi l'herald, qualcuno mi assiste. Porca puttana, tutti in mid, ragazzi. Dove cazzo state? Dormite? Nessuno ce l'ho più di casa. Non stavo andando in mid, ora? Un attimo. Vabbè, io torno... No, no, la bot è che è andata in mid, non nel... No, la bot è qua. No, una. L'altra? Mumu, nella mia giungla. Prendo i sogni, così che gli umani possano inseguirli. Un stardo, Mumu. E' stato arrivando in bot. Tanto che potrebbe essere... No, se ne è scappato. Facciamo il ciladro. Dai, muoviti che c'è il carretto. Guarda. Mi curro. Ah, vado a mettere il viso. Ci vediamo! È un pezzo importante, possiamo distruggere. Facciamo verso di qui, non lo spostiamo. Dai, che carretto se ne va. Vabbè, mia. Sono qui. Ho preso. Dove sei andato? Oh, Lidia. Il messaggero della landa. Mio. No. Scusa, guarda. Era in foca di ucciderlo. Se vuoi ti puoi prendere l'insettino. Tanto io ho perso l'erano. Oh, t'accoppaglia. Un po' di gold lo mi fa schifo. Ma sei... Non pensavo di prenderlo. L'ho preso con... Eh. Mamma mia, quanto male mi fa il 7. Dai, busciamo la tua lane. Almeno questo te lo posso concedere. Busciamo la tua lane. Incredibile. Ah, Bruce. Mi piace parlare con te. Ah, ce l'hai tu l'Erald, eh? Sium. Quindi tu lo devi rilassare. Partito. Grande giocata questa, eh? Non se l'aspettavo. Chiedo di farlo. Non mi fanno fuori. Guarda. Hai un flash? Ti sei buttato un po' troppo sotto d'orre. Non è subito. Vedi anche il calzato è che... la contaggola dai non ti lamentare le spalle jungle difference è che non ce l'ha chiamato infatti che cacchio sono in base come faccio a sapere mettete una visione piuttosto ti vergogni c'è il support che non mette visione e poi sape il nuovo jungle non ce n'ho più col pezzo ce l'hai col pezzo il tuo pezzo quello che ti dà le palline a un certo punto che dai farmate ti dà cosa prendere adesso cosa prendere sulla maione io ne io ne qui ma gli uomo ti fa con un botto quindi so prenderla si attenta ringraziamo azione e se buttare con la volte di uti marta dove le ricopi ci sono ancora non ci arriva ora sì ma è fattivissimo blocca di tutti vabbè prendiamoci a te prendiamoci il drago dopo tancare un po tu fai tocca ai funci a parte che ti curi mentre coppisci quindi così tanto città mi sembra che ti stai morendo comunque hai capito che col pezzo hai delle visioni come le faccio ricca su quel pezzo ricca su quel pezzo oh senna a ok secondo me la cosa serviva quel pezzo solo per farti fare mio mamma mia mamma quant'è troia ma io non capisco chi si gioca a senna sul porto ok tu l'hai fatto lo so ma io posso sì ma io io posso e comunque la mia non era così rotta ma che dici grazie a mumu per il globo oh irelia state un po sfuggita irelia porca puttana cichone dietro dai me corri se corri me corri sì vabbè bene a chi di vantaggio comunque c'è praticamente qua i supporti e barus i real morti i real morti no altro controllo porca troia ma la torre non gli spara c'è per il bello se si attaccano eh mi stavano distruggendo sì ma se dalla distanza se ne sbatte no era una sottotorre tutti i fin di vita sono ella è sangerata non ha senso è un sorriso prima del sogno c'è praticamente una volta bravi ma la brus è su porta è il senna che fa tutto la bocca non trovare scusa abbiamo le palle la casa prendiamo quella è il marsala tutti così noi siamo qui ragazzi la sua torre è stata la sua torre è stata e vabbè io ne culo ma se vince io ne mi incazzo peccato i realia dobbiamo diprenderci addormento non c'ho più no gli assagliato le kill donne ci perde contro senna così tanto perché senna non ha abbastanza chi è avuto un attimo di depoianza ragazzi scusate si era bloccato tutto dove che sto ancora installando qualcuno stanno arrivando stanno scendendo da noi stiamo veloce questo me ne vado ah non vengono non vengono a difendere no vengono ad attaccare la mid mette una visione qua ci sappiamo chi viene lateralmente a mummo è da voi attenzione cioè gli usi la gambe perché ho visto Ione arrivando anche Ione non si possono uccidere eh Ione è difficile a mummo è lontano a mummo ancora ancora ma dai ma ai aspetta l'ho colpito io questa cazzo quanto quanto cazzo è bello il prete come ci hanno recuperato scusami no mummo ha bloccato tutti ci ha stunnato vai possiamo usare il suo blocco e ci hanno bloccato a vita non ci siamo mossi eh sì sì eh Marta non andare lì è la giungla degli orrori quella oh carca miseria che palla missione eh lo so che missione questo è già non volevo che ti faccia mezzo troppo sì grazie ma mai data l'osa riesci 404 ah vabbè ce l'ha bisogno e pensavo che ci andavano dietro eh c'è bisogno da mettere lì possiamo andare in topside no no ma ti fanno la top no no stai difendendo io vabbè non è acqua ma se il problema della kill facciamoci il drago allora ci accontentiamo del drago attento a Mumu attenzione a Mumu attenzione a Mumu cazzo 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 c'ho Senna qui a perché ha usato Senna? Senna sarebbe una cosa bellissima dobbiamo far fuori a Mumu sennò io non me lo inizio Senna Senna se si fa fuori Senna abbiamo vinto eh Pantone Pantone cosa? Pantone è mi hanno mangiato porca puttana non sono riuscito a flashare bene a Shanna mi è scappato eh ci moriva ma però la merda te lo facevi Mumu te lo puoi ancora fare basta che ulti ulti niente sei arrivato troppo tardi Shanna è una merda ma io c'ho una partita della madonna c'ho chi bugia eh si ma tu potevi arrivare con quel megafight che stavo iniziando ma io c'ero secondo te chi ha tutta la vita ma poi sei scappato sei andata a Gabbè l'ho visto e lì è arrivato a altra parte bella scusa guarda che si muove il più forte da tutti i ritiri eh si non riesce più a fare niente Gin appena lo prendi lo spezzi vai tu oh ha flashato serve a nulla a flashare ma come cazzo fanno a farmi così male e se no Marta se riesci ad andartene vattene ti ho detto che quella è la giungla degli orrori e c'è il drago a me è arrivato un come si fanno a vedere i danni non si possono vedere la quanto fa no no ti diceva comunque prima ah ecco 9601 da Senna con un colpo non mi piace la blocco lo ucciso io non so come se l'hai attaccato tu no addirittura flash ma è scomparsa col flash doveva essere la giungla mi sa che è andata verso Senna così che ha preso il buff per diventare invisibile viene è rotto qui grande visione abbiamo vinto inizia la vostra ultima scena è il momento di trattare via dall'imbarazzo no 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 perchè mi stanno contando ad attaccare porca miseria ma tu l'hai matato tutta la vita anche a me perchè mi stavo contando ad attaccare anche se ero andato distante pusciamo pusciamo tanto c'è uno appunto comunque è forte quando siamo in tanti esatto lo tenco io lo tenco mi piace aione eh ione yaso gli abbiamo fatto solo un pentate io sto laggando hai la torre ma ma cazzo ci siamo fatti quasi due torri dell'inibitore guarda quanto gli mancava per la torre seconda torri dell'inibitore madonna senna se la studiamo e il problema è che ora pushano hard minchia per il baron dovrà che si vanno i baron porco baron chi è che arriva subito arriva avanti un primo non fare niente glielo rubo con la ultra palese se ci riesce non provarci anzi già ce lo sono fatti no no ce la faccio piuttosto muoio però ce la faccio cazzo ultimo come si annulla come si annulla basta che premi l'inibitore di nuovo la tasse r no il tasto destro ah scusami il tasto destro il tasto destro il tasto destro il tasto r cazzo cosa l'inibitore non era la visione no era più bella dove l'aveva messa io tu dovessi prendere la trinket una volta finito il pezzo una visione una visione quando dicono buonanotte 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 è vero con il baron infatti hanno fatto una gran cazzata questo fai ah no sei un uno stronzo un cretino non è un cretino pipì mio ah niente mio mio guarda la squadra delle meraviglie da pushare in top ah se andai se continuiamo a pushare in mida l'abbiamo finito mi guarda di sorgere la torre ragazzi non è vero c'è Senna al culo Senna intanto quella torre appena la tocchi esplode si pusha Senna sono arrivati in troppi non sono arrivati in troppi parla di zanatare aia che che ma senso questo suicidio di massa non l'ho capito però va bene è stato divertente alla fine tanto abbiamo vinto no? eh questa frase non si dice mai no infatti non è male posso prendere adesso? come stai messo tu? quella è inattivabile la lava di Yomu quindi la devi attivare per avere velocità di movimento tutto comunque c'è un non so non so fin dove è arrivato in media fate il collezionista dai per divertirti cos'è collezionista? collezionista cerca il collezionista ora da possono aspettare che mi ricresca la sicurezza praticamente è arrivati al 25% della loro vita i monciotti ma sono sdraiati sull'aria e la allora pusha non pushare grande joke palla per vedere cosa c'è ho preso Vars ho preso Vars ho preso Vars vuoi catturarlo? si è un po' come tua madre guarda chi c'è lì sono le palline per catturare ehi là guarda chi c'è qui c'ha Mumu c'ha Mumu è andato sarà qua? che c'è andato Mumu? è scomparso è scappato qui hanno appena messo una visione fresca fresca sento odore di merda probabilmente qui infatti è qui arrivo mentre ci ho provato recuperava troppa vita no ma succede ci voglio credere che è sopravvissuto no io finchè non c'ho il mio pezzo io basta mi sembra l'agia completo dove ho agito? ho il famone di infinito ora ma Mumu c'è conto la cosa per la vita? no Mumu come recuperavo tutto per la vita? Mumu più schiaffi prende è il giro del sole è l'armatura delle custode porco dunavente comunque è il 5% Marello il 5% vabbè eh c'è tanta differenza tra il 25 e il 5 vabbè comunque tra i conto che appena che non tolte di vita li conosciuti è comunque schifono un po' sì è un colpo finale assicurato non ho i pantaloni tipo quella sarebbe morta quest'ora sì ma non si deve ricaricare sempre no no è quello che voglio beh dopo che l'hai attivato ha una ricarica si ovviamente non lo sai fare ripetizione pam 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 guarda è troppo forte se no mi butto è presi caso vabbè vado a difendere la bottia andiamo è la ulti zensi sì minchia Marta mi dispiace vai con te vai ci sono vai no Marta non ce l'hai fatta ad uscirmi pensavo tornati indietro ma è stupido bastava che mi soffiavano ragazzi c'è Baron non ci sono tutti noi potremmo farci il drago eh ma allora si fanno il Baron meglio il drago eh meglio il drago eh non si sta ma fare il drago se non rendersi il drago il Baron non il drago ti ho detto il drago non il drago allora che cazzo stanno venendo a fare uuuh cazzo quindi mi affaccio il drago tutta nanna non ci facciamo mi sa che è più il drago ah ti vuole prendere lo dici lo dici davo ma ora sei il drago ah no ti sei oh ora sei il drago stai scappando no perchè abbiamo fatto fuori la loro giungla si ma anche loro se la fanno a me cioè guarda chi mi sta inseguendo oroco schifo bisogna avere coraggio da maschio no no quanti draghi abbiamo rubato ah siamo a varietà di draghi e si fanno pure il b ma dai io no il senso che ha detto no questa è vinta si dice mai quella frase mai ma si basta che busciamo no non è così semplice non è così se eh no un paio di colpetti a cosa centrale che non hanno più le torri questo è vero puoi fare così puoi fare lo snitch che io l'ho fotti piano piano vado io con la ultra oh perfetto quello devi fare eh ma bisogna fare prima l'inibitore e di quelle cosa lì c'è l'inibitore prima eh facciamo l'inibitore e poi si ehz un pazzo chiaso oh oh non so dove è uscito non va per niente bene non va per niente bene ma quanto rubavita ha come no io la sono fatta anche per se nella rubavita l'antia 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 si no ma la e non serve un cazzo la e non serve un cazzo la e la devi direzionare verso i colpi dei neri eh si l'ho fatta ma fanno comunque meno staccare c'è Senna che mi fa troppo male beh quello è perché Senna fa male a prescindere come ho fatto a non prenderla non lo so come ho fatto scusami l'ho toccato e non gli apparso il fiore non ci credo ma come fa come fa ad avere tutta quella vita a Mumu io non so come riesca ad essere in vita non so come uscire deve aspettare il flash vai a sinistra che c'è una kill di a Mumu c'era ormai c'è ancora visto c'è ancora con classe con molta classe e da Mumu non poteva né scendere né salire né scendere né salire andiamo a fare l'inibitore il baron ah dobbiamo fare il baron c'è la missione del baron respira l'atmosfera mettendo la missione del barone messo vicino al barone 9 monete a me 100 ancora vado a ucciderli è turno fiori spero che una notte tu la possa incontrare sogno il baron è ormai un one shot perchè Senna adesso è la di Kerry vieni 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 di quella coca ma che si chiama la presa la con le anime ah Senna vuole intrappolare blocca è bloccato ma anche io voglio il risuscitare risuscitare? basta che ti metti dal gioco ce l'ha con te ma va quanto blocca Mumu Mumu è morto credo nooo quanto mi sono errato grazie zogno sta facendo il retro la polizia lo vado a prendere tanto che fa malissimo se c'è la cosciana o se sei tanta roba? c'è di drago non c'è se c'è da fare Mumu è importante il drago eh non c'è c'è dileguato non c'è più inevitore fateli pushare che abbiamo vinto lanciamoci subito questo drago ma quanto ci mette a uccidere il coso centrale? non lo so fai pushare Yasuo noi concentriamoci sul drago allora lo state facendo voi trascenderai sai che cazzo sono arrivato a fare? andate ma a cacare per quel lavoro è la giungla dovevi essere qua abbiamo vinto ah no l'ho chiusa no l'ho chiusa Yasuo l'ha fatto bene vittoria ezz un iscriverso da bravo Yasuo Rein ha scritto dj ezz anche io l'ho scritto ma non esce è la tocca delicata la tocca abbiamo abbaffato un po' il vuoto con il drago ehm comunque puoi vedere adesso i danni tuoi quanti danni hai fatto hai fatto 13.000 danni io ne ho fatto 36.000 sono il secondo con più danni ho battuto anche Martek che è strano ah bro ma io sono support e tu copisci la base a gambo ah si eh? eh si già ma Marta non è support nooo che cosa vuoi? io stacco comunque ah ok che si ciao 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 notte ciao notte ahhhh non è devo cambiare ruolo? è uguale ok dicetemi voi ditemi vai vado io in giungla quanto non tu vuoi andare anche in giungla vabbè tieni sai come si fa la giungla si? no devi fatti campi devi fatti campi devi metterti lo smile se no non ti fai un cazzo di campi le rune? le rune ti ha fatto praticamente blitz se ci hai aperto blitz non ce l'ho blitz beh non lo so non devi vedere cosa sai? cosa ti dico? ma non gioco pantheon cosa giochi? warwick riven riven non è giungla decido io cosa è giungla e cosa non avrai molta difficoltà usa warwick warwick è divertente warwick è divertente warwick si magna tutti scusate Lidia Lidia è divertente io voglio usare coniglietto da battaglia prime le tue decisioni sbagliate ti tormenteranno infatti sono l'ultima scelta che non le devo mettere? precisione? non lo so cercatele riven riven giungla però devi cercare si precisione conquistatore aspetta come faccio a farne un nuovo pagina? vai su la matita sulla matita ah eccolo qua ok vai ci sono conquistatori precisione trionfo conquistatore trionfo leggente alla crità ultima sfida poi? poi quello verde ok razza ossea risoluto sei pronto? aspetta la pagina fai pronto? si ok puoi continuare a farla puoi continuare a farla allora determinazione quella verde corazza ossea eh aspetta eh ok adesso risoluto corazza ossea e? risoluto risoluto metti adattiva adattiva armatura adattiva 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 armatura posto? oh madonna mi sforcio nel panda è un apposto pizzo pizzo devo prendermelo io a panda no panda non va in top ma com'è possibile? scusami no c'è un po' no hennie mi sforcio ma voi siete pazzi infatti mi dicevo ha bandato nautilus e quindi è hennie eh provo a fare la pazza sgravata vabbè io sono blitz crancro sono blitz crancro com'è che si giocava a Reven? la Q non l'ho mai giocata la Q prima blocca la Q e poi la E quando la E poi metti ma non hanno gli scudi e la W hanno studi intorno a te però la Q fa i tre colpi più solo tre volte di fila a Q la E fa uno scatto e con lo scatto di mettere anche uno scudo e la W fai lo stun intorno e fa anche danni poi la R è un alt F4 naturale la R potenzia la tua lama e se la riselezioni botti in onda che fa danni per tre volte se non mi sbaglio può già fare ma faccio male almeno si fa male pesca suono che l'abbiamo capella non bere non bere cosa hai detto scusa? non bere no bevo l'altro mi idrato idrogeno l'idrogeno è elio no sto facendo i gioc idrogeno è ossigeno l'h2 no quanto ci vuole a Lolla a caricare? questa è colpa di Sam ma Sam è tornato alla fine no lo so io lo so che stava ghiacchiando amorevolmente con sua sorella adesso che c'è il computer patata cosa hai detto in cesto? Patrick vaffanculo ah ci stavo sentendo era qui per tutto questo tempo ti sto ignorando al fine il gatto era lui il 90% di quello che fa Morello ho fatto in verità il gatto ero io per tutto il tempo ma anche twist ok mi risulta che prima Zenzi ha detto la gran verità ve l'avete insultato io non ci sto proprio questa cosa mi prendo il gatto che devo fare incandescente o cuor grandine non ci dice questa è vinta ma va più che ragione il mio cliente rosso e poi ti prendi la pozione da 150 o te la c'è la data da solo pozione ricarica ah ok che comunque ti serve per sopravviere di posso fare quello sotto inizia da po' di sopra quello che so non credo che lei vado a mana quindi vai dai red buff poi ti fai il red buff gli uccellini vai per i lupetti ti fai il rospetto ti fai anche il blue buff e ti fai le roccine nessuno che mi dà la mano esatto chiamati Kale fagli un bel punto interrogativo punto interrogativo ah no sta arrivando non ci fa non li l'ho fatto io e tieni premuto il g comunque devo farla nella minimappa o eventualmente nella mappa aspetta ho dimenticato devo ricaricare ma lancio un soldino eh prezzetto tieni ma è andato fuori ma io quando c'ho veramente le monete posso la chat le sai si lo so diciamo che ora sono povera guardate un soldino fai andartene fai andartene fai andartene fai quella mrs fortune madonna non c'è un flash tirala tirala non ce l'ho non ce l'ho non ce l'ho vai non ce l'ho non ce l'ho non ce l'ho ma due anni niente ne è stato il primo song bellissimo ma la ww stun la tua ww stun e fa danno comunque anche è una domanda importante che come si chiama il tuo personaggio riven riven coniglietta da battaglia prime ma se mila vado solo il 30 spesso visto che si sponi in quell'angolo voglio voglio il carretto che non mi fio un cazzo ma che fanno i porno con minecraft ma chi è che si disturba guardando questo ma cazzo ti chiedi a me scudendi vabbè allora poi ritiro tutto no era mio eh non t'ho visto ho visto che stavi andando mi stavo andando sto semplicemente provando non prende danno dal minion che mi stava attaccando vai è tutto tuo si aspetta che aveva un certo top di vita è tutto è tutto è tutto è cattivo no ha fatto un entro vabbè ritorno attiva di soffermano non hai fatto niente ho mille secondarmi ha 4348 porno di League of Legends solo solo la magia mi anima mi sono di più la magia mi anima la scena si così proprio un maschio ma in senso si sta sopravvivendo dal giugno ma finchè non è rilasciato si torna in basso e prenditi i pezzi cosa lo prenderò bella domanda cosa ti consiglio ok che è la domanda succhia sangue si vale della kuma di liona o chiama inizia con la succhia sangue se c'è il pezzo gubavita non mi ricordo se c'è a farlo vai prima a quel rubino si va di bussare no non c'è oddio cosa è stato sorribile io non ci sono metto visione nella giungla ma vuoi tu carretto carretto non lo vuoi ok non credo io bastardo il mio carretto la vita che mi ha il carretto carretto è del support ma sta mentando in cambio i magi che è un botto non mi sembra semplicemente non vi cazzo un nemico è stato ucciso esattamente ciao bambina aspetta che c'è sei mi ammazzo di bot mi ammazzo di bot ha feso in mano è perfetto quindi va appena la gabby è morta anche la n e chiunque gabby è morto mi piace mi piace basta se lei non c'è regalo dici sabba già marco tocco non so come ho fatto l'importante è farlo parola mia cosa dove il nostro canale mamma mia carretto del support carretto del support mi ha fatto troppo il drago il drago quindi devo tenermi uno smite yes usa tutte le skin le skill quando colpisci i mob di giugno lo sto già facendo e perché non ti vedo picchiare a mano e perché le finisco tanto di guerra di shaika cosa è una scusa mi guante ci fa colore quando lo attivi no preferisco il giugno del sole ma anzi sai che ti dico il sole di ferro vai il ciclo lì ora sicuro il periodo eh che lui lecca ma lecca mi le vado non ci sono troppo cattivo no però comunque lecca no non so che le radi sono niente eh va bene sono se ne sono sudate sono niente ci sono facciamo sto drago aspetta tu sei senza tornate nel base come il telefono che genzi non vuole più farmi le cose ma quella è come la vedi morta mi rende pistole nella tendicata ok siamo alla ultima morta anche lei rimasto in fin di vita ho stato io ce l'ho tutto come aveva oh no ci stanno intanto vado a dare una mano vado a dare una mano cosa vuoi fare guarda il drago vai facciamoci il drago c'è Yassu che sta arrivando a fare non mi amo sono salire non mi amo non sa mira sono maschio lo smitei lo smitei lo smitei ricordi di smitarlo al momento giusto smitalo vai tiralo tira qualcosa sto a fronte ah ho fatto ho fallito scusami su di quello si 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 continuo non insisti sulle tue azioni non lo toccavo più era scappato ormai arriva Yassu arriva Yassu dietro si va in scena no no ho finito in mana vai Yassu è li mi segui il cicolio rassicurante non ho il coso fa da venire fa da venire qui ci facciamo una penta lì io ho finito in mana allora ho fatto ora ho di nuovo un po di mana attenti per rimetterla dell'iphone devo per forza togliere la per rimetterla no allora fai così no io ho fatto che ho cancellato dati è cancellata dell'applicazione andare avanti e vada live quando non lo posso fare questa cosa e allora si lo scatta che ci sono mi sforzo perché la sera non ho deciso sbagliato in giocare bene a tal loro che so per esempio il cold reset se tu che mi posso smettare gli avversari sì ma aiutagli poco a video una volta che è rosso a parte quello non c'è più il rosso che se l'ha fregato o se sono fregati o se lo sono fregati si è rinato il blu no e dipende da quando è passato e non l'ho fatto ancora sono fregati chi masteri probabilmente ma vado nella sua giungla continuo che non sembra tanto adesso adesso mi faccio il blu e poi vado nella sua giungla ma la giungla c'è la nostra line abbiamo lasciato proprio si intanto quello lo push si sforza non sta semplicemente spiegando vabbè lui sta arrivando io sono in spalle l'accidento i pendi pendi intanto lo facciamo così e la prendiamo bravissima è entrata nell'auto ulti era l'ho lasciata fuori lei è entrata nell'auto ulti ma che intelligenza queste ma quando c'è samira c'è samira non c'è nulla sì non è capito io l'avevo grabata ed era poi l'auto ulti no lei ha detto no no perché vuole uscire dalla ulti di sanira rientri a rosma è rosso ok ho capito aiutare anche i nemici ma vi spiegare l'ulti a balletti ma si ritorna a 6 ma si riva mi chiede al suo o io voglio una mano è in fin di vita non so quanto possa resistere ha laggato tutto ragazzi non ho capito accesso non ho capito quanta vita sto io io ho annullato l'ulti lo tatua perché io muoio e lo danno in base me la stavo uccidendo sto andando sotto la sua torre adesso vado a rubare il coso a master i master q il famoso master q ma master è tutto baffato si tu no mi ha ucciso master i samira non so quanto stai però occhi diamo andiamo andiamo da lui ve l'ho portato siamo morti qui tuttavia senza mani ma perchè master è così veloce perchè la ulti può diventare veloce ma l'hanno fii quanto l'hanno fiddato otto chi il cazzo ma porca puttana e la mido vi si è morto il gioco quattro volte porco 2 cori nico che si prendono la torre mi prendo il tempo che serve ma andare in lane a fai dare lo vedi che sei sottolivellata bro bro io me li faccio tutti guarda 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 no ma è morto ma era morto perché la data lui la kill e capire bruciare ma che cazzo voglio vedere da me possiamo andarci vabbè da boh che poi cazzo era morto ma perchè loro non prendono danni dalla torre mi ho spiegato cazzo basta levati rivers di merda non ce l'ho fammi fare per lo sto carretto dovrà farmi baron io tutto tuoi infatti quando c'è ancora il baron c'è l'herald quel che è esatto c'era tira è morto non credo con tutti quei minion c'era più visione nel cespuglio perchè masteria era bello cattivo ogni tanto mi ho messo lo disegno nel cespuglio le ossa sono una pessima scelta però io gli ho messo io direi di andarci sotto torre di andare a prendere no no qua mi finì la torre vai no un po' tardi eh le posso prendere lei oh yasuo 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 scappa scappa evitiamo i fight è meglio fightare contro loro da sole ok sono citati da yasuo e yon invece non se ne sta facendo il caso guarda io aspetto qui dentro io posso dare una mano alla top tipo si diremmo una tra il tempo pushato non riesce a fare nulla eh no no torno indietro c'è che masteria appena ucciso yon la mia multa cosa fa? la lama ha più potente faccio più male esatto e se la riclicchi fai un mondo energetico da lontano tira qualcuno tira qualcuno ti rendi non ho range se non c'ho i minion che andavano sotto torre e ci andavo tira 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 t non ce l'ho posso farti questo no ma figurati adesso prendersi questo sicuramente volevo la spada con la pip torno in basso oh yasuo la scende da noi vedo cosa riesco a fare qui c'è anche masteria tu basti che stunni si no ma che cazzo ho tornato in merda gabbo stunna ok l'ho fatto fuori ma me non dà gli assist io tocco chiunque non mi dà gli assist se no ma enti non dà l'addato è vero no no perché ho visto che l'ha stunnato si si è vero boh vabbè oh ma mid vai tu in mid gabbo ora cosa devo fare? un pezzo d'acciaio? devi venire anche tu cado rinascione che stanno appizzando un po' tutti tranne noi e la top eh vabbè la tua squadra disfrutta una turni sei niente uccisione un nemico stato di ciò ne vedendo il tempo che serve un nemico è sovrumano eh vabbè stavo parlato troppo presto che la top non aveva perso ma sei nascita di due bro ma sei a 81 di farm bro hai basta che scala si infatti hai basta che scala mi sta pregando la farm la merda ma sei lì? no ma voi i mid laner fanno a volte con i bastardi fra poco c'è il drago si sezionatevi che ci sto venendo anzi potresti anche farlo non c'è pure nessuno non c'è nessuno citto andiamo tu stunna sempre senza stunna di tutti non cattivare il stunna no li sciolo ma tira il corpo no aia bro però mi fottete ogni volta mi manate avanti poi sono sempre io che muoio ho fatto fuori il mastery ma quella è stupida esatto no vabbè facciamoci il drago si speriamo che tu faccia abbastanza danni lo grabbo vai grabbo ho visto qualcuno sopra o sbaglio? fai il famoso questo no 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 non è culpa mia e tu tu hai preso troppa anima di lol l'anima di mortacci lui e dovresti capire perché cammina è così è culpa di lol ecco effettivamente io non ti do torto sbaglio sbaglio sostituisci quella parola con ortaggio è un ortaggio bianco è difficile farlo vedere spontaneo sai oh dove cazzo sei uscito no 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 io non mi hai visto a me ha finito la convenienza di ezechiele è sempre il mio foe a meno di infinito così ci r-shotiamo tutti ora farmi il gromp a te la sua giungla ma si dietro di noi aiuta nisi no 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 vattene 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 vattene, scappa 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 è andato in fight fai fuoco in quella misfocio Oh no quanto male fa Mastery che fa sentito Io ho Mastery, ma uno in più io Ok Buona succhi sangue, se la attivi vicino ai nemici succhi sangue Ubi vita E la pozione ricarica bene cosa fa? Ricoprirà anche vita Te recuperi vita, la devi prendere, ti ricarica appena torni in basso Non l'ho mai usata Come? Puoi anche farla in fight quando vuoi Il suo boss non ce nemmeno l'ha fatta Chia ma pozione ricaricabile La mid è da... vabbè c'è Ione C'è un pantheon e uno so... ehm Vai top Sono top Quella è bot Un po' triste aver perso 200 cc o almeno... Io son top RESTO CONCENTRATO Sei top che lo so Non c'è nessuno Non c'è nessuno Non c'è nessuno in top Stai di perpendicolare Volevi? Volevi? Volevi credo? Volevi? Che ho visto? Occhi maliziosi... Oh! Non c'è nessuno in Q Non c'è nessuno in Q Non c'è nessuno in Q C'è nessuno in Q Anzi! Su! Vai! Ti tiro una testata che ti spacco in due il menisco Ti sfoglio il menisco Una testata il menisco L'ungle questo qua L'ammazzo Basta Fai basta Non c'è nessuno Cosa è anche la tua ultima che fa il più danno? Porca puttana! Tutte le ultramè ogni volta Le ultramè ogni volta C'è...Chanon aspetta Non... Non... Devo mettere la conge... Senza di inzecchiere a te Ci vediamo dai minion sotto la rotore Va bene Che bel appuntamento Romantico Sotto la rotore Se la vuoi non fermare da o non pushare Ok Oh mi sento potente Guarda quando son potente adesso Ma quando son potente adesso Col pezzo mi ha reso potentissimo Il tempo che serve Cazzo sta succedendo? Perché sto slittando nel tempo? Kale riuscirà a... No Ragazzi sto slittando Allora andiamo qui Imboscata Imboscatone Facciamo il drago Ne facciamo un po' di casino Minchia l'imboscata ha avuto successo Facciamoci il drago Sì sì E' passiamo Qualcun atto mi sento Qualcun atto mi sento E' passiamo